dagli atti degli apostoli in quei giorni pietro e giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio costui vedendo pietro e giovanni che stavano per entrare nel tempio li pregava per avere un'elemosina allora fissando lo sguardo su di lui pietro insieme a giovanni disse guarda verso di noi ed egli si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualche cosa pietro gli disse non possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di gesù cristo il nazareno alzati e cammina lo prese per la mano destra e lo sollevò di colpo i suoi piedi e le figlie si rinvigorirono e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando saltando e lodando dio tutto il popolo lo vide camminare e lodare dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiederle l'elemosina alla porta bella del tempio e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto gioisca il cuore di chi cerca il signore rendete grazie al signore invocate il suo nome proclamate fra i popoli le sue opere a lui cantate a lui inneggiate meditate tutte le sue meraviglie gioisca il cuore di chi cerca il signore gloriatevi del suo santo nome gioisca il cuore di chi cerca il signore cercate il signore e la sua potenza ricercate sempre il suo volto gioisca il cuore di chi cerca il signore voi stirpe di abramo suo servo figli di giacobbe suo eletto è lui il signore nostro dio su tutta la terra i suoi giudizi gioisca il cuore di chi cerca il signore si è sempre ricordato della sua alleanza parola data per mille generazioni dell'alleanza stabilita con abramo e del suo giuramento a isacco gioisca il cuore di chi cerca il signore dal vangelo secondo luca ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus distante circa undici chilometri da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo ed egli disse loro che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino si fermarono col volto triste uno di loro di nome Cleopa gli rispose solo tu sei forestiero a Gerusalemme non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni domandò loro che cosa gli risposero ciò che riguarda Gesù il Nazareno che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto disse loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quando furono vicini al villaggio dove erano diretti egli fece come se dovesse andare più lontano ma essi insistettero resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto egli entrò per rimanere con loro quando fu a tavola con loro prese il pane recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane